Siamo qui nella mostra di fotografia organizzata a Benevento dalla scuola di fotografia Giulia Margaret Cameron. Questa mostra ha una valenza molto importante per l'Accademia di Fotografia perché nasce alla fine di un anno che ci ha visti impegnati in attività culturali che hanno dato un supporto artistico, culturale, tecnico a quelli che sono stati i corsi che sono stati messi in essere. Questa mostra vuole essere un punto d'incontro per giovani fotografi e maestri della fotografia italiana. Nasce dall'Itea nel mese di giugno di Salvatore, Vincenzo e Giovanni con Antonio Manta ed è stata realizzata fondamentalmente con passione, amore e cultura per la fotografia. Possiamo dire che tutto è stato possibile all'impegno e anche alla disponibilità dell'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione Palazzo Lolo Quinto, che è il luogo dove è passata la maggiore espressione dell'arte contemporanea a Benevento.